Upastrame al 2 febbraio, Filippo deluso dalle azioni di Roberto in Polonia. Anteprima Un posto al sole dal 29 gennaio al 2 febbraio, Diego racconta a Filippo la verità su Tommaso e sui fatti avvenuti in Polonia continua la storia dei protagonisti del celebre melodramma napoletano Un posto al sole. Nella settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio, dopo un colloquio con Diego, Filippo resterà molto deluso nel venire a conoscenza della storia del piccolo Tommaso. È giunto il momento per Eugenio Viola di annunciare la sua decisione di iniziare una nuova vita. Clara, sempre più fragile, rimane sconvolta da una telefonata improvvisa. La scoperta di Filippo dopo aver sentito le dure parole di Diego sui fatti polacchi, i problemi di nascita di Tommaso e tutto il losco comportamento di suo padre e di Marina. Dopo aver appreso con sgomento e disgusto ciò che Ferri e la moglie stavano progettando, il giovane Sartori vive un aspro confronto con l'uomo, dal quale esce visibilmente esausto. Serena allora cerca di calmarlo e di fargli capire che ha fatto la cosa giusta esprimendo la sua opinione sulla questione. Turbata dalle parole di Filippo, Marina è costretta a prendere una decisione drastica che suo marito non si sarebbe mai aspettato. Alla fine hanno deciso di iscrivere il bambino all'asilo per ridurre la quantità di tempo che avrebbe trascorso a casa con la madre biologica, Ida. Giulia soffre di comportamenti minacciosi Giulia ha intenzione di organizzare una manifestazione nel quartiere di Rosa e Clara per fare appello ai proprietari affinché impediscano lo sfratto di molte famiglie locali. La sua iniziativa però non porta ai risultati sperati, e subito dopo il suo centro d'ascolto viene investito da un vero e proprio atto intimidatorio. Le donne si renderanno conto che questo gesto rappresenta in realtà una minaccia per loro. Nel frattempo Alberto, considerando la vulnerabilità di Clara, cerca di avvicinarsi di nuovo a lei e di intrufolarsi nella sua vita. Oltre a vivere già momenti difficili, è rimasta sconvolta da una telefonata del tutto inaspettata. Devastata dalla telefonata, la donna sarà costretta a confrontarsi con le sue emozioni più nascoste. Alberto approfitta di questa situazione per avvicinarsi sempre di più a lei. La scelta di Eugenio dopo un nuovo incontro intimo con Lucia, Eugenio capirà che è giunto il momento di far sapere a Viola cosa sta succedendo nella sua vita. Bruni dovrà accettare senza tristezza che anche per la sua ex sia arrivato il momento di voltare pagina. Nel frattempo, la giovane Irene continua a mostrare segni di disagio interiore e le sue azioni spingono i suoi genitori a indagare ulteriormente sulla questione. La moglie resterà ancora una volta delusa dalla risposta del marito alla situazione di emergenza del Cotugno. La disputa tra Mariela e Guido però continua. Una scioccante rivelazione di Cerruti permette alla donna di prendere in mano la situazione. Successivamente i due ricevono un caloroso appello da parte di Alfredo da parte di Cotugno. La solitudine di Nunzio-Nunzio sarà sicuro che i suoi sentimenti per Rossella non cambieranno mai anche dopo la sua dimissione dall'ospedale. Il ragazzo finisce per vivere momenti di vera e propria solitudine che possono costringerlo ad azioni inaspettate. Nel frattempo, il giovane medico ha intenzione di concentrarsi interamente sul suo imminente matrimonio con Riccardo. Il futuro sposo verrà a Milano per un convegno e prevede di incontrare vecchie conoscenze. Ipotesi per la prossima puntata riguardante Clara Clara, già fragile e vulnerabile dopo un recente incidente con il suo capo Edoardo Sabiese, riceve una telefonata sorprendente. Da quello che possiamo capire dall'anteprima, dopo questa conversazione inaspettata, la donna dovrà affrontare le sue emozioni più nascoste. Sebbene non sia ancora nota l'identità del suo misterioso interlocutore, è facile intuire che dietro questa misteriosa figura possa nascondersi il padre, Mariano Tregarà. Tutti pensavano che fosse morto, ma l'uomo divenne cooperatore di giustizia e fu protetto in carcere.